Buon salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di GamerSerd. Io sono Kira e oggi siamo qui per il nostro appuntamento, questa volta però non nel capitolo 2 ma bensì nel capitolo 3, della fanfiction di Serbio, ossia Apex Legends Titanfall. E già questo, già il titolo preannuncia qualcosa di interessante. Allora, se vi ricordate però faccio un piccolo riassunto, eravamo rimasti che le nostre leggende avevano preso il razzo per partire verso Olympus e grazie anche all'aiuto di Revenant che si era sacrificato per sconfiggere Ash e era rimasto giù comunque in confini del mondo dove c'era una bomba che sarebbe esplosa da lì a breve quindi comunque lui sembra morto però l'ha fatto anche perché ha detto che era stufo di vivere una vita così che non era più una vita e quindi ha voluto sacrificarsi. Adesso quindi dobbiamo capire cosa succederà effettivamente in tutta questa situazione qua. Allora, le nostre leggende sono precipitate ad Olympus, un giovane pilota della milizia li recupera per collaborare e scoprire cosa trama la MC e la Hammond e a cercare di mettere fine a questa storia. Ogni parte è stata corretta gentilmente da Andrea Rivera che infatti scrivo di solito sempre sotto fit Andrea Rivera. Prima di iniziare però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 ed in descrizione abbiamo il link di Telegram, Twitch e Discord se vi facesse piacere partecipare. Ho iniziato a portare il capitolo 3 di questa fanfiction un po' più tardi rispetto all'effettiva uscita infatti come vedete ci sono già due parti perché o avevo da fare altri video quindi sono rimasta un po' indietro con la fanfiction però spero di riuscire a recuperarla in fretta. Olympus Ma perché ogni volta precipitiamo? disse Mirage La porterei alla? gli disse Rampard Dopo pochi attimi il raggio si schiantò violentemente al suolo causando gravi danni allo scafo State tutti bene? chiese Bangalore Dannazione! Lifran è ferita l'addome! Biiin che incominciamo malissimo! rispose Wraith E mo chi la cura? che è Lifran il medico Cazzo dobbiamo tamponare la ferita disse Bangalore Wraith prese delle bende e tamponò la ferita mentre il drone di guarigione di Lifran la teneva stabile Nel frattempo arrivò una comunicazione radio Leggende? tutto bene? Ho visto che siete precipitati! tenete duro sto arrivando Mila stai con Lifran mentre io e gli altri evitiamo che questa MC ci prendano disse Bangalore I ragazzi si armarono di R99 e si diressero verso l'uscita Si misero in posizione e aspettarono il battaglione che arrivò in un battibaleno Dai cargo scesero dei robot simile a Pathfinder Erano armati di Flatline così si vede al via una sparatoia molto accesa Gibraltar e Bangalore sganciarono il loro ultimate e fecero piombare delle vini dei razzi addosso ai robot Uccidendo in una manciata ma continuavano ad essere dei rinforzi Rampart piazzò le sue tre barriere amplificate e Sheila iniziò a far fuori tutte le ripetizioni Ad un certo punto arrivò un Titan, uno Scorch più precisamente che mise in serie difficoltà la squadra Rientrarono nel razzo ma non bastò, arrivò un altro Scorch E minchia, cioè se già il 2 iniziava con una sparatoria che avevano difficoltà e che li ha aiutati Rampart Ed erano solo uomini adesso ci sono anche i Titan quindi figurarsi Le leggende trovarono un riparo nel razzo ma Scorch riuscì ad entrare facendo fuoco di soppressione Nel mentre Lycra si era ripresa ed era cosciente Che succede? Sei rimasta ferita nello schianto e Lion sia mandato delle truppe ad ucciderci, rispose Mira Dannezione, dalle un'arma, dobbiamo aiutarli No no, tu non ti muovi Le leggende stavano arretrando sempre di più indietro dei Titan e delle truppe Cripto, appena siamo tutti dentro si gira la porta, non ce la fermo mai con sti due, disse Bangalore Tutti entrarono nella prima sezione del razzo Cripto usò il suo drone per mettere fuori uso per un breve periodo gli Scorch E poi chiuse la porta ma non avrebbe retto a lungo Infatti gli Scorch stavano per sfondarla ma ad un tratto arrivò un Titan di classe Vanguard Che iniziò ad attaccare la MC e dopo una bella sparatoria riuscì a distruggere anche i due Scorch Cripto sigillò subito il razzo per evitare che altre truppe entrassero Che diavolo sei? chiese Bangalore Dite Titan scese un pilota con una tuta Con una tuta da facewalker Ah, ok La tuta era nera con dei tratti bianchi e grigi Aveva gli anfiglia neri che arrivavano fino agli stinchi con la punta vellutata di viola E i pantaloni neri con un pattern militare grigio e bianco Sulle gambe aveva una fondina con dentro una mozambiche Poi un tattico col colore grigio con dei portacaricatori neri E una radio nella parte superiore sinistra Sul fianco una tasca porta utility color bianco E un coltello nella parte superiore destra dei guanti bianchi Nel braccio destro sulla spalla aveva il logo del corpo Mardwer Mardwer, scusate non so leggere Un mantello rosso strappato con dei buchi e un casco come quello della skin di Freight Facewalker Con la visiera completamente nera Te lo dico dopo Bt, dimmi se stanno bene Bt? Bt 7274? Chiese Bungal Sì, quel Bt Bt andò contro la lifeline, vedendo che era ferita Ferita dovuta allo schianco La ferita non è grave, mapp generale Sistemi stabili Il pilota si avvicina al lifeline Sollevandosi la visiera del casco Ehi, Ajai! È un aspetto di merda, tesoro Ok, allora Ok Allora È iniziato tutto alla stragrande Cioè, proprio Ti ha catapultato lì Proprio come se fossimo nel raggio direttamente Mentre nel secondo comunque era un po' più soft E la cosa all'inizio Nella seconda parte c'è stata questa introduzione anche a queste sparatorie Qua no, qua subito In effetti loro stavano scappando Quindi giustamente appena arrivati in un pianeta anche Non proprio nemico però straniero Hanno iniziato subito ad attaccarli E quindi hanno dovuto combattere l'ultimo sangue Con ognuno nei propri ultimate Questa volta molto più difficile come dicevo prima Rispetto al capitolo 2 Perché questa volta c'erano anche dei titan Che sembrerebbe essere il fulcro Di questo nuovo capitolo E quindi loro assenza ovviamente hanno molta più difficoltà E poi è arrivato questo pilota Che ho sbagliato un po' la sua voce Cercherò di migliorarla Per come voglio farla Questo pilota che li salva Anche lui con un titan Che indossa una tuta molto simile Alla facewalker di Yvrate Per questo è che quando ho letto facewalker Ho avuto un attimo nel tipo Poi non è propriamente così I colori sono leggermente differenti Però ci sono rimasta un po' basita Anche perché ho detto Ok C'è un collegamento? Non c'è? Non lo so Si vedrà Poi Bt7274 Allora direi che sono ignorante Ma penso di sapere invece cosa sia Perché penso di averlo disegnato Se non ricordo male Che se avete fatto uno speed drawing Su Bt7274 Confermatelo sotto Centimetri nei commenti Se hai detto una minchiata Scrivetelo proprio Hai detto una minchiata Magari non questo con queste parole Perché mi farebbe un po' soffrire Perché poi mi dimentico di che cosa parlavo E dico vabbè E poi conosce Ajai Ma la conosce anche in una maniera Cioè sembra più amichevole Non so se è più profonda Anche perché Prima di tutto la chiamata tesoro Quindi bisogna vedere che collegamento ha con lei E poi anche questo Cioè questa piccola frase Però molto più colloquiale Dicendo proprio dai Aspetta di merda tesoro Può essere un amico Può essere un familiare Può essere qualcosa di più Non si saprà Vedremo poi Anche se io speravo che Ajai si mettesse Con Octane Però Non si vedrà Ed è stato però molto veloce Questa parte Abituata a quelle vecchie Perché giustamente La fine dei capitoli Dove essere un po' più lunga Questo qua è stato molto più veloce E con l'introduttivo Ci sta mi piace Ci sarebbe da leggere In realtà anche il secondo Però preferisco tenermelo Per un prossimo episodio Quindi Spero vi sia piaciuto Se fosse così Iscrivetevi Lasciate un like Commentate qua sotto Con cosa ne pensate voi Su questo nuovo inizio E se attendevate con impazienza Come me il capitolo 3 E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi